Allora, il tema secondo me sul quale ci dobbiamo concentrare è che oggi il dissenso al pensiero unico fa paura. È ovviamente chiaro e facile dire che scandalizza il dato che si voglia fermare Santoro e non chi è propaganda di regime come Scodin Solini. Voi poi vi chiedete, diciamolo in Europa perché forse non lo sanno, alcune notizie scompaiono completamente. Se non ci fosse il Fatto Quotidiano e qualche altro giornalista, le notizie scompaiono o anche vengono deformate. Hai citato tu prima il caso Mills. Il Tg1 non è che parla delle cricche. Il Tg1 in estate per esempio fa dei lunghi servizi che durano anche tre minuti dove invitano un professore universitario col camice bianco che in tre minuti parla al popolo italiano su come fare per difendersi dal caldo. Ad esempio dice se ci sono 40 gradi cercate di non uscire, uscite la sera, non bevete super alcolici ma bevete l'acqua, mettetevi le maniche corte e non le pellicce. Cioè questo poi diventa sostanzialmente l'informazione del servizio pubblico. In questa vicenda noi abbiamo proprio questo che è inquietante, l'intervento sugli organi di garanzia e sugli organi di controllo. Vedete in questa vicenda, poi mi avvio pure io quasi concluso, si inserisce a mio avviso perfettamente in quel disegno autoritario che è quasi completato, che porta la concentrazione del potere nelle mani di una o pochissime persone che poi hanno a loro seguito una pletora di servi e vassalli. Con la centralizzazione del potere deve passare poi necessariamente attraverso la neutralizzazione di tutti gli organi di garanzia. Quando è che Berlusconi ha cominciato a parlare della legge Bavaglio e del controllo sulle intercettazioni, ve la ricordate la vicenda Saccà di qualche anno fa? Lui là cominciò, dove anche veniva coinvolto pesantemente, un indagio della procura di Napoli, là cominciò a dire dobbiamo intervenire sulle intercettazioni telefoniche. La legge Bavaglio, che è una legge di tipo piruista, nel senso che porta a compimento i due obiettivi principali di Storgeli, tra i tanti, la dipendenza del PM dall'esecutivo e ovviamente se gli togli le intercettazioni togli uno strumento investigativo fondamentale e il controllo dei mezzi di comunicazione. Perché bisogna controllare, eliminare intercettazioni e non farle pubblicare? Perché l'obiettivo di questo regime è l'assenza dei fatti. La gente non deve sapere. Perché se accanto all'ignoranza dei fatti hai una propaganda di regime che giornalmente ti dice che tutto normale ed anzi pericolosi sono quelli che dissentono. A proposito di Libero mi è venuto in mente un attitolo di Libero qualche giorno fa. Io vado a Taverna del Re sulla vicenda delle discariche a Giuliano, vado a parlare con i manifestanti, esprimo solidarietà alla lotta di popolo, li prego di non fare violenza perché la violenza distrugge la forza delle idee. Vado a dare solidarietà alle forze dell'ordine. Invito alla calma. Dopo cinque ore c'è una sassaiola libero, dei magistri se si rega a Taverna del Re, aizza i manifestanti, cinque poliziotti feriti. Voi ridete ma la strategia è la criminalizzazione del dissenso. Se vai all'Aquila ti alzano i processi verbali di sequestro della Carriola. Cioè i manifestanti dell'Aquila per aver manifestato contro lo sperpero dei denari della protezione civile sono stati incriminati attraverso il processo, attraverso i sequesti delle Carriole, attraverso la contestazione dell'articolo 18, testo unico di legge pubblica sicurezza che è un'arnese fascista. Allora attenzione che questo è il disegno. Neutralizzare gli organi di garanzia, penetrarli dall'interno, condizionarli. L'inchiesta della P3 a me non preoccupa tanto che si innesta perfettamente in questa vicenda del controllo di Masi, Innocenzi e Berlusconi. Mica mi preoccupa tanto per la presenza di Verdini che è il coordinatore nazionale del PDL. Mica mi preoccupa tanto della presenza di Dell'Utri. Mi preoccuperebbe il contrario se non ci fosse Dell'Utri. Mica mi preoccupa della presenza di Carboni, piduista condannata a otto anni e mezzo per la banca ruota. Mi preoccupa di cose di cui non si parla. Cioè che là c'è il capo degli ispettori del Ministero della Giustizia che è un magistrato che si chiama Marcibaldo Miller, che dovrebbe giudicare sulla deontologia professionale dei magistrati. Allora noi ci meravigliamo se la pigliano con Nino di Matteo a Palermo, se la pigliano con altri magistrati. È la logica del sistema. Mi preoccupa che là c'è il sottosegretario alla giustizia, che il Presidente della Corte di Cassazione ci portano l'olio mentre gli fanno l'emendamento per farla andare a 72 anni in pensione in modo che si occupi di una legge e poi lo promuovono alla Conso. La corruzione oggi mica è la mazzetta di Mario Chiesa, mica sono i lingotti d'oro di Duilo Poggiolini, sono questi incarichi. Le vallette che vengono poi al Parlamento europeo, quell'altra che ha l'incarico là, quella che diventa Ministro. Bunga bunga è il folclorismo etonistico di un sistema, ma sono le corruzioni che preoccupano. La presenza dei carabinieri, il fatto che lui arrivi così facilmente, il fatto che tutti i vertici dei servizi degli ultimi anni stanno sotto processo per fatti gravissimi. Allora se noi non ci ribelliamo, mentre invece la preoccupazione qua è del ragazzo con l'agenda rossa che contesta Schifani, io mi preoccuperò nel momento in cui non vedrò più nel Paese un ragazzo che contesti in modo pacifico queste cose. Allora se noi non dissentiamo di fronte a questo e pensiamo che la cosa si risolverà con i meccanismi istituzionali, non ci riusciremo. Qua siamo al cortocircuito istituzionale, chiudo su questo, ma lo vedete questo treatrino tra Berlusconi e Fini? In un Paese normale si dimetterebbero entrambi, perché non è normale che i ministri e i sottosegretari di FLI rimettono il mandato nelle mani del Presidente della Camera, mentre invece il Presidente del Consiglio, di cui sono ministri, dovrebbero dimettersi davanti al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica. Non è normale che un Presidente del Consiglio senza maggioranza sia Presidente del Consiglio. Non è normale un Presidente del Consiglio che intervenga sulla questura che sia ancora Presidente del Consiglio, ma non è normale che un Presidente della Camera sia un capo di un partito politico che ha fatto defragrare il PDL e che ha messo in cortocircuito istituzionale il Paese e tutti nel Paese si pensano che è il nuovo paladino della legalità. C'è colui che ha provato tutte le cose che stiamo vedendo adesso, compreso Masi, compreso Innocenzi. Allora di fronte a questo devono stare tranquilli, perché l'Europa ci aiuterà a rimanere in Italia e noi con l'iniziativa di oggi inizieremo a portare questa vicenda in tutta Europa affinché, mi auguro, anche in Europa parlino di questa vicenda.